Consigliere Tommy Atanasio, ma le leggi italiane, diciamo italiane, proteggono? Hanno veramente rispetto delle persone, tutte? Moltissime sì, alcune no, seppure la nostra Costituzione parla sempre della dignità delle persone. In questi giorni, in questi mesi, il tema della riscossione dei tributi è stato un tema che ha falciliato addirittura la vita di molti italiani. Un'indigenza, un debito contratto, quanto può mortificare le persone? Il problema della CRIF, che è un'agenzia privata che lavora con le banche e che in fondo ha la vita di tutti noi italiani. Nell'ambito della sanità, la libertà di cula. E perché non le liste d'attesa? Chi ha capacità economica può curarsi subito, chi non ha capacità economica deve aspettare. Sono tutti gradini che ci separano ancora dalla piena dignità di cittadinanza, siamo ancora sudditi in alcuni casi? Sì, attualmente lo Stato vede il cittadino come un suddito ed è sempre non conforme alla Costituzione, di cui molti ne parlano in maniera subliminale, però pochissimi la rispettano. Il tema che pochissimi la rispettano è grave, è il più grave e nel momento in cui le istituzioni, lo Stato nella sua interezza, i ministeri, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, la regione, le province, facciano molte volte carta straccia della vita delle persone. Il problema è che Realtà Italia sta ponendo in maniera, se posso dire, ossessiva questo tema, avendo travalicato una fase post-ideologica e noi non ci riconosciamo più nei temi classici della destra, della sinistra o del centro, ma la dignità della persona, le persone al centro dell'attenzione di Realtà Italia. So che lei ha fatto un appello ai neo eletti e ai nuovi amministratori. Sì, motivo per il quale sono stati candidati i nostri ragazzi, i nostri giovani, perché loro hanno sottoscritto la nostra carta di lavori, credono sino in fondo ai nostri valori e indipendentemente dal ruolo istituzionale che ognuno andrà a ricoprire, ogni giorno col fare quotidiano nell'azione politica bisognerà sempre avere a cuore e come punto di riferimento e fare la dignità delle persone. Grazie